Sì, siamo senza carta del telone, quindi questa run sarà ancora più difficile! I topi di campagna con la fertilità... Ciao Ciccio, come va? Carter che mi fa il commentare in sotto, non ci credevo male la vita! Mi cavolo chietto! Aiaiaia! Oh, adesso ti apri! Adesso ti apri! Salve, lupo rachitico! La diluazione potrebbe farsi brutta, mi stanno per tagliare la topa? La gazzò! Bene, 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 bene! Aspetta, ma c'era anche nel gioco originale? Davvero? Salve a tutti, io sono DroneGamer e bentornati su Inscription 2024 Edition! Il gioco che nonostante io ci abbia passato, non lo so, un centinaio di ore da quando abbiamo iniziato a giocarci tre anni fa, ancora riesce a stupirmi! Non sapevo nemmeno che se tu vinci contro lesci ti dà una carta dedicata, ma in realtà non hai vinto! Sei ancora intrappolato in questo maledettissimo posto! Allora, ci sono 8-9 minuti di video della scorsa puntata che dovete ancora vedere, vi faccio vedere tutti i filmati che vi mancano e poi riprendiamo la nostra avventura! No, no, una volta tanto non sono in Londra del futuro, non so ancora come andrà questo cocchio di episodio! Oh, ti è caduta la webcam, ciccio! Cosa hai combinato? Il signor Carter, scusi? Ah, lui si chiama Kevin Saxby, l'attore! Io lo seguo sui social! È un folle! È un folle completo, vi giuro, fa ancora le scenette! È un attore vero e proprio lui, eh! Fa di quelle scenette veramente ai limiti del possibile! Ok! Direi che la situazione ha preso una piega molto inaspettata! Ciccio? Sì, si sta preparando per registrare la partita! Ah, questi influencer! Sì, certo, certo! Faccio il tifo per te, Carter! Vai, ciccio! Wow, è solo un gioco interessantissimo! Avanti, avanti, vai di prossimo pacchetto, ne hai tanti lì? Ma c'è gente che passa ora a guardar questi video? Sì, devo dire, queste carte si sentono extra silky oggi, sono troppo semplici! Non so se cosa stanno facendo l'attore del cartone, ma questi si sentono bene in miei handi! Ok! Vediamo cosa abbiamo qui! Sì, anche a me piacciono i computer, ma non vado a vedere video di unboxing di computer o altro! Cioè, ogni tanto, ma vabbè! Magari un po' addizioni al mio Draft Cube, vediamo! E il nostro raro per questo pacchetto è... BAMDOG! Wow! Non esattamente per tutto, ma abbiamo molti pacchetti da andare! Nel prossimo pacchetto, qui siamo! Eh, Carter il cellulare, si spegne! Sì, 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 perché sennò ti arrivano le fatture qua della bolletta della luce della pagare, come è successo a me, ciccio! Ma vabbè, dettagli... Ci sono un sacco di video qui! Dica! Le voglio anch'io con le carte! Eh, ora lo so! All'epoca non sapevo di cosa stesse parlando, ora lo so! Ma che carte interessante, eh? Ma sì, sono in commercio, io le vorrei! Oh no, quelle carte! No, 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 no! Cioè, finché sono le carte di lesci, ne possiamo ancora parlare, onestamente! Ah! Che hai visto? Eh, questo pacchetto è stato aperto! Nooo, non lo farebbero mai, certo! Chi lo farebbe mai? I tirchi e i poracci, ciccio! Una cosa interessante, eh? Vediamo un po'? Che culo! Penso se fosse stato d'altra parte del mondo! Oh, non andare! Card, air, card... Ed è così che lo abusarono male male, ma vabbè, dettagli! E c'è veramente andato! Questo è un video del giorno dopo, il 3 ottobre! Sì, c'è il Parkinson, ciccio, però, eh! Ho una lampa truffa e un shovel! Sempre vengono preparati, ragazzi! Sì, ma è giorno, Carder, avanti! È una foresta un po' buia, in effetti, eh! Here we go! Carder, fatti accompagnare da qualcuno la prossima volta! Le coordinate sono giuste! Oh, ma dai! È follia! Come fai a sapere in che punto scavare, peraltro? Non che non faccia stunca all'improvviso? No? Sembrava diverso il suono Era un po' più... No, lo so, più chiuso No, 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 è follia Non mi aiuterai mai a fare una roba del genere Che poi, se non avete mai scavato in vista vostra Non potete capire quanto è una rottura di palle scavare Ehi, c'è veramente qualcosa No! È AIDS! È IDS! Non toccarlo! Non lo so, ragazzi, non lo credo C'è in realtà qualcosa qui È un virus che ti farà votare per Trump Non lo so, che cocchio Che roba è? Pacchetto di carte, no? Cos'è? Non riesco a capirlo da qua C'hai la telecamera che fa schifo? Un floppy! Oh! C'è dello sporco in mezzo Si, ha bloccato il coso sopra la lamella Che era super tagliente, ragazzi Quella roba lì Non sapete quante volte mi sono tagliato E' nemmeno di 90 E' ropirla Chi è che seppellisce un floppy E lascia anche le coordinate E' come i pirati che lasciavano le coordinate per il tesoro Per chi? Porca la miseria Signor Carter, vogliamo vedere il prossimo? Sì, nessuno ce l'ha Chi è che ancora è il lettore di cd? Ma ho bei dettagli Sì, devi prendere quello usb In verità l'hai trovato a buon prezzo Ai tempi d'ora l'ho dovuto pagare 15 o 20 euro Non mi ricordo Sì, interessantissimo Perché chi... Ce l'ho ancora a casa di mio padre Ok Time to figure out what's on this thing L'hai ripulito dalla terra, vero? Ok No, i floppy non fanno il boot in automatico I floppy non fanno il boot in automatico Non mi prenderà per il culo Direi che è un gioco che abbiamo già visto qualche volta E di solito fanno molto più rumore Oddio, è uguale Forse hanno letteralmente fatto partire inscription Quindi noi siamo Carter Che sta giocando ad inscription E sta reccando la partita Carter, in realtà sei il DeLongamer Fin dall'inizio Chi l'avrebbe mai detto? Ho fatto il face reveal in volontario E... Ah, ok, è finito? Non... Non credo che ci sia altro Vediamo un po' Interrompere la ricerca di video E se non ce ne sono altri Se non troviamo altre memorie A posto l'escino? Come... Come la risolviamo? Perché mi hai fatto vedere questi video? Cosa poi è successo? Cos'è sta roba? Beh, non festeggio spesso E raramente concedo doni Ma tu sfidante? Beh, tu sei degna Ti prego Non trattenerti Dacci dentro Ho capito che The Cake is Lai Ma questo che roba è? Beh, c'è qualcosa che non va? Il tuo premio attende? Molto bene Vieni con me Mi porterai lontano perché? No, perché mi sono partiti I momenti musicali Ma vabbè Stai fermo lì Che succede? Oh mio Dio Lesci mi inquieti Quando ti vedo Porca la miseria Posso... Posso farti una foto? Come la vogliamo risolvere? Perché non mi posso girare? Oddio Posso farti una foto Con Rullino? La carta di Lesci? Ci facciamo? Ah, non c'è Rullino Ancora una volta? Per favore Non essere sciocca Non c'è dentro un Rullino Ne avrò bisogno Beh Cosa? Come? Tu sfidante Sei una campionessa E io voglio commemorare La tua vittoria Ok Prego Incidi il tuo nome Ehm Ok Facciamo semplicemente L'On Un L'On standard Che sei visto? Sei visto? Shh Tranquilla Non disperare Sei una vincitrice Certo Non è che mi hai riavviato Vero? Dovevo procurarmi Il Rullino? C'ho i vuoti Di memoria Per la Sì in effetti Ce lo stiamo domandando Tutti Beh L'ultima persona Che mi ha sfidato È riuscita a sconfiggermi Un evento raro Vai a chiedere Come ha fatto La troverai lì Appeso alla porta Oh Ermellino? Quindi devo morire Tre volte? Ermellino Non ti vedo messo Molto bene ciccio Oh Oh Mi girano troppo le pa Oh Oh Lescino mi stai facendo Veramente incocchiare Che tu non c'hai idea Scogliato le alveare Oh Lescino mi hai fatto Veramente triggerare Malissimo Che te non c'hai idea Oh Rubo questi denti Perché sono incocchiatissimo E tu Lescino davvero Non c'hai idea Ma porca Ma super mega porca Ok Nonino Nonino Stai calmo Va tutto bene Aspetta C'è davvero la fotografia Non mi prendeva per il culo? Ma 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 sei un fetente Ma sei un bastardo Ma sei un approfittatore Ok Ok Non so se mi fossi cavato l'occhio Se sarebbe cambiato qualcosa Però Probabilmente sì Devi schiattare tre volte Altrimenti Lescino Non ti fa andare avanti Lescino Sei uno schifoso Bastardo Dove poi è finito il lupo? A parte dove è La carta del lupo Non era qua dentro Quella del lupo rachitico C'ho C'ho i dubbi esistenziali Ed eccoci ritornati Al presente Piccolo Maledetto bastardo Signori Dobbiamo tenere il rullino O qua Non la finiamo più Allora Una volta tanto Faccio una furbata E mettiamo l'orologio Alle undici Et voilà Perfetto Che ci permette di avere L'anello Ehi ma Ti entra Ti entra un calcio in culo Se non ti sei zitto Lo scorso episodio Abbiamo scoperto inoltre Che se anche conosco L'orario necessario Ad aprire lo scompartimento Qua sotto Ma non ho completato Tutti i passaggi Per saperlo Già Il coltello Stiamo parlando del coltello Gioco Non ti fa progredire Ah Che bella cosa Il fair play e tutte cose Ma andiamo avanti Che è meglio Con le palle girate Sì signori Ci attende un ulteriore run Ma vi faccio notare una cosa Dopo aver sconfitto Lesci Lui ci ha fatto la fotografia Ma non ci ha fatto creare La carta del telone 3.0 Sì siamo senza carta del telone Quindi questa run Sarà ancora più difficile Che culo Allora vediamo innanzitutto Di ottenere Una nuova carta No guarda Io scuolo bianco La capra nera Non mi dispiace Perché altrimenti Non so come spawnare Il lupo Ermellino Te sei messo sempre peggio Ciccio La signora è ancora ancora uguale Ok Portiamoci via la capra nera Con il degno sacrificio Che ho Perfetto A proposito di sacrificio Dobbiamo sacrificare uno di voi Sono quattro gatti Lesci Sono proprio costretto A sacrificare qualcuno Non me ne posso tipo andare No eh Sembrava troppo bello Per essere vero Sono io la tua scelta No signora Anche perché lei ci morirebbe Quindi mi dispiacerebbe In effetti Vorrei vedere le carte Che parlano tra di loro Dobbiamo sacrificare la capra nera Contro ogni aspettativa No Tu no Anche se onestamente Non è che farebbe Una grandissima differenza È che Non lo so C'ha tre di vita Lo devo uccidere Ogni 1,8 secondi A sto punto Diamo il potere Alla ranatoro Il top sarebbe stato Il gatto Però se proprio Mi devi costringere A meno che il potere Della ranatoro Non lo diamo A qualcun altro E teniamo la capra nera Da parte Ragazzi vi giuro C'ho i big dubbi Esistenziali Teoricamente è fattibile Dice gioco E così facendo Possiamo Ah ma la signora Non la Possiamo spawnare subito Servono due ossa Vabbè Dai rinuncia la ranatoro Speriamo bene È un sacrificio Proprio buttato nel cesso Sì Altro potere Ok Almeno è felice lei signora Io ottengo ancora L'ossicino extra Cioè Anzi le otto ossa extra Quello è un dubbio Che dobbiamo chiarire Allora È inutile Andare dal tizio delle pelli Adesso Non c'ho voglia di fare i totem Porca miseria Però da questo lato Non è che la situazione sia Poi così tanto migliore Cosa mi fai sacrificare Che non c'ho carte Ma dai Ma mi prendi per il culo Santo cielo E vabbè Battaglia con i totem ragazzi Se la ran prendesse una brutta piega Perdo volontariamente E ne ricominciamo un'altra Wow I lupi volanti Proprio vuoi fregarmi fin dall'inizio Beh sì Sono carte buone Dove Sono carte buone Che abbiamo un lupocchiotto volante In avvicinamento rapido No Non abbiamo ne Oddio Abbiamo perso anche quei benefici Non ci credo mai A malapena posso spawnare Ermellino E non c'ho manco Il lupo Che è l'unico che può far danni Ai nostri avversari Ma vabbè Dettaglia Allora Lupocchiotto farà uno di danno Quindi allo stato attuale Sacrifichiamo lo scoiattolo Mettimi qua Ermellino Questo punto Sei sicuro? Non abbiamo altre possibilità Ciccio E cerchiamo in qualche modo Di sopravvivere il più lungo possibile Anche se ho un brutto E che l'alfa Sta arrivando anche l'alfa Dicevo Ho un brutto presentimento Per questo accocchio Di partita Allora Abbemmus il lupo Che almeno farà tre di danno Ah Questi lupi sono volanti Giusto Quindi non ci possono attaccare direttamente Ma Ermellino dovrebbe farlo fuori L'alfa invece Ci farà passare un brutto quarto d'ora Allora Facciamo fuori l'alfa O ce ne sbattiamo altamente le balle Facciamo direttamente danni al nostro avversario Abbiamo usso anche la cimice Che a sto punto mettiamo qui Così l'alfa non può letteralmente fare nulla Perfetto Cerchiamo di accumulare un po' di dentini extra E lo scoiattolo di tua non è in cariola Che non mi farebbe schifo ragazzuoli Ok Due dentini Is meglio che one Perfetto E abbiamo vinto la nostra prima battaglia Contro i totem del nemico Gioco una carta decente Non chiedo tanto Vediamo un po' Chi ci danno di bello La puzzola Lo scarafaggio immortale E il corvo Allora Il sigillo immortale Lo potremmo dare a E a chi? Al lupo? E non è la cosa peggiore della vita Se volessimo essere onesti Oppure lo potremmo dare a Ermellino Che comunque c'ha tre di vita E il lupo Se riesco a trovare la mantide religiosa Ci farebbe nove di Scusate il re delle mantidi Pardon Perché la mantide è attacco biforcuto Dicevo Se troviamo il re delle mantidi Sostituirà i poteri del telone O ancora meglio Lo diamo alla capra nera Così ogni volta La possiamo rimettere in gioco A patto ovviamente Di avere un singolo sacrificio Non lo so Ok intanto prendimi lo scarafaggio Dovrei avere un po' di tempo No Neanche troppo lorino Neanche troppo dannazione Allora O la capra nera O lo scarafaggio Il gioco dice Non hai tante possibilità E vabbè Quattro ossa sono difficili Però perderei una carta d'attacco È questo che mi fa girare le palle Mettiamola così A prescindere anche Ermellino Richiederà un singolo sacrificio Qualora ritornasse in mano È la stessa cosa dicaci per la capra nera Però a prescindere la capra nera Ti dà tre sacrifici Quindi ok Rendiamola immortale Avrei preferito fonderla col gatto Ma Ehi ragazzi In questo passo è il convento Sono contento per te ciccia Ottima promozione Zio Billy Sono finito nella parte brutta No davvero Questi incontri Dovresti farmeli dopo Gioco Ok Proviamo a risconfiggere Le sci sui totem Chi ti giochi di bello Ancora i dupi volanti Li incontreremo per tutta la run Io ve l'ho detto Figlioli Qua Non ne usciamo vivi I miei omaggi Sì sì Già già Ok Devo cavarmi l'occhio Ma che faccio Aspetto Aspetto il prospettore Che già se riusciamo ad arrivare lì È un miracolo Allure Stanno arrivando I lupacchiotti volanti Allora Sessa tattica di prima Ermellino qua Ovviamente Ho le mani legate Perfetto Aspettiamo che il lupacchiotto arrivi Che ci attacca direttamente Perfetto Allo stato attuale Non posso giocarmi nessuno Posso recuperare La capra nera Casomai uccido Ermellino Senta il becchio Minimo rispetto E chi si è visto Si è visto No ermellì No Non ci morire cortesemente Allora Facciamo così Scoviattolo A capra nera Chi è che sta arrivando Non ho visto nel frattempo Un lupacchiotto E a sto punto Ci mettiamo il nostro lupo Direttamente Qua tanto ermellino Ci muore fra 1,8 secondi La cimice invece La possiamo segnacare qui Che casomai rallenta Gli attacchi di lupacchiotto E vi sarò tutti Eccola lì che ermellino Ci schiatta Felici e contenti Vediamo un po' Ancora vivermeli È morto adesso Dovevamo appazientare Un altro secondino Lasciami qua Non scogliato Della serie Giusto per Quanti danni extra? Un paio di dentini Così giusto per simpatia Non so come stiamo riuscendo A vincere In questa run Decisamente molto sfigata Ti prego carte decenti Ti prego carte molto Ma molto decenti Gioco Allora Chi ci regalano di bello? Il telone Il telone è tornato Il vecchio telone Oh mio dio Sei un bastardo Però questo era un telone Che potevamo sacrificare All'infinito E in più faceva danni Non fa troppi danni Ma Oh porca la miseria Diciamo che è un po' Ridondante con la capra nera No 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 Io voglio il caro Buon vecchio telone Non pensavo ritornassero No mi giuro Sono commosso Che botta di culo incredibile Allora Andiamo a intagliare i totem Ti sei imbattuto Nella vecchia intagliatrice Che ha fissato su di te Il suo sguardo intenso Dopo un momento di silenzio Quasi eterno Si è mossa Per offrire le sue sculture Che sculture di merda Allora direi Di andare ancora Di carte volanti Vabbè L'ho scoiato lo volante Non mi serve a nulla La donna dei capelli grigi Ha raccolto in silenzio Le sue sculture E se n'è andata Se troviamo ancora una volta Le teste di lupo Ecco da buono e giusto A vedere di utilizzarle Oh Bene Il prospettore è già in avvicinamento Rapido Vi ricordo che abbiamo ancora Tutti gli oggetti Da utilizzare Ma prima A battaglia Che bella cosa Lescino Ti giochi I cervi Che ti incornano Anche le carte volanti Proprio di rompipalle Non mi interessa Che lo scoiato lo voli Si beh La fortuna ti sorride I miei omaggi L'aspettiamo di chiacchierare Ragazzi Allora L'antilope Oh che palle Non possiamo neanche utilizzare Le carte volanti contro di loro Non che ne avessimo Eh ma insomma Ci siamo capiti E gioco non mi dà nemmeno il telone Perché sei un bastardo Di proporzioni bibliche Allora Fatemi fare mente locale L'antilope non può attaccare Davanti a sé E la talpa può parare I colpi L'unica carta che possiamo Spawnare allo stato attuale È Ermellaino Ciao caro Brutta giocata Non rompermi le palle E vedi di darti da fare Che almeno uno di danno Lo facciamo Lo so che la Mantile Sì l'antilope ci farà doppio danno Ma ti ho messo lì Perché Speravo che l'attaccassi Poi ho pensato che lei si sposta Alla bastarda Però ti pari Comunque il prossimo Attacco in un modo Nell'altro Allora 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 Ci serve Il telone Grazie caro Così uccidiamo direttamente Ermellino Ah bastardo E vi sono tutti felici e contenti Direi di eliminare Velocemente Questa antilope Che non la sopporto più Possiamo anche Già spawnare La cimice Che puoi Mettermi qua in parte Al telone E poi sacrifichiamo Il telone Perfetto Per mettere il lupo Ma tanto c'è la talpa Che ci rompe le palle È inevitabile Perfetto Vai Ottimo E ci siamo liberati Di tutti Quei scassapalle È tornata anche la capra nera Ma non può fare molto Allo stato attuale Vediamo di fargli Uno sfaccello Di danni extra Ah solo uno Perché Eh vabbè Eh vabbè Potevamo guadagnarci Un po' più di dentini Ribadisco ragazzi L'importante è vincere Allora Come ho detto Sì è la peggior mano Di carte Che abbia mai avuto Ma speriamo di ottenere Una nuova carta Molto faiga E la nuova carta Molto faiga È l'antilope Il corvo I topi di campagna Con la fertilità Chi vorrebbe diventare Molto fertile In effetti Il telone fertile No Direi che abbiamo già dato Abbastanza Da sto punto di vista Se riuscissimo A potenziare abbastanza Uno dei nostri ragazzuoli È un potere Che potrebbe cambiare L'esito della battaglia L'antilope Sì ok C'ha il colpo biforcuto Ma il fatto stesso Che è scattante No Non voglio carte Che si muovano Sul Sul Il mio tavolo Sì lo so che Questa è stata nerfata Purtroppo Ma vabbè Che vuoi farci Ok portami via I topolini Allora io C'ho lo zaino pieno Quindi vuol dire Che ci daranno I topi di campagna Beh il tuo zaino Era pieno Ma si è avvicinato Un piccolo animaletto Ciao caro Come va tutto bene E abbiamo Il topo da Soma Un topo da Soma Sempre utile Sì quel potere È veramente incredibile Signori Iniziamo con un prospettore Così di primo mattino Voi non mi vedete Ma c'ho il pranzo Che sta facendo I peggio giri Tozzi nella vita vera Che lasciamo stare Allora Spero che non arrivi Il telone fin dall'inizio Perché sennò Verrà trasformato Stavolta purtroppo Non è immortale Sei passato Vicino a un'immensa Ciotola vuota Circondata da mucchi Di rigaglie E ossa irriconoscibili Sembra che ci sia Una ciotola per cani Ah già che c'è il secugio Ma quale secugio Avrebbe bisogno Di un passo Di tale entità Ciao ciccio Come va Carter che mi fa Il commentario sotto Non ci credevo Ma nella vita Ma dove Si è cacciato Il mio secugio Non c'è più il secugio Che basta così Scogliato nei volanti Ok siamo al boss È vero Non c'è il secugio Stavolta C'è il coyote Oh è perché Lo abbiamo ammazzato prima Mi viene in tubio In effetti Ok sta arrivando Anche il mulo da soma Oddio Il telone va tenuto Da parte Oh ricordiamoci Ah io mi devo cavare l'occhio Ok ok La mano successiva Allora la vinciamo facilmente La capra nera è immortale Quindi Non dovremmo avere Troppi problemi Allora Lasciami Il grande fumo C'ha tre di vita Quindi può affrontare Tranquillamente Il coyote Non esageriamo Per adesso Mi gioco Lo scogliattolo Ed Il telone Perfetto Che magari Riusciamo a far fuori Appena possibile Il mulo da soma Tanto mi devo comunque cavare l'occhio Per adesso facciamo avanzare La partita Quattro di danno Glieli facciamo Direttamonte Il coyote Il coyote Il coyote ci attacca Ma non riesce a far breccia Allora vediamo un po' Chi abbiamo di bello qua sotto Il lupo Bene 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 Allora per adesso Lascio che la partita avanzi Della serie si sa mai Coyote Eliminato Ottimo E mi hanno fatto fuori purtroppo Il grande fumo Salve signora Che piacere Rivederla Guardi la possiamo già spawnare Direttamente qua Ottimo così Intanto Prendiamo il mulo da soma Vieni vieni da papino Bella cartina Nulla di interessante Ah Il mio mulo Tu scia maledato A posto Allora Fatemi recuperare Un'altra carta Faiga Allora Vedo che abbiamo Il topo da soma Che potremmo utilizzare Oddio mio Lo tengo magari per dopo Per cavarmi l'occhietto E tutte cose L'ho scogliato L'imbottiglia Lo tengo da parte Della serie si sa mai Pertanto Per adesso vediamo Di avanzare Ciao chiaro E la prima candelina Te la spegniamo Perfetto C'è del oro In quelle carte Bastardo Maledetto Di scatole E' contento Anche quella Della serie Meglio bondare Dell'oro Colpito dell'oro Perfetto Perfetto E recuperiamo Senti Una carta standard Ah I topi di campagna Ma certo Nel frattempo E' ritornato Il segugio Allora Ragazzi Lo faccio Lo faccio Mi cavolo Chietto Ai 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 Ah 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 già Adesso però Non ci vedo Da un occhio Piccolo dettaglio Sono leggermente ferito Però avendo messo il Mio occhio qua Vedete che la bilancia Pende per 4 Dalla sua parte Questa Questa la possiamo vincere facilmente Portate mezzo secondo Che sono un attimino Gravemente ferito Nel caso non lo si fosse notato Ciao Scogliato lo volante Com'è il telone Telone Ma il telone non è ritornato Ah no è vero Il telone non è immortale Continuo a fare quell'errore Stupido imbecile Ok mettimi la capra nera Ciao cara Direi che l'unico che fa abbastanza danni E' il lupo Però 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 Aspetta mezzo secondo Io ho utilizzato un oggetto Quindi ci manca un oggetto Fatemi mettere il topo Da Soma Tanto la capra nera Ritorna qua Così mi danno Che mi hanno dato Direi il ventaglio Per rendere le carte volanti Perfetto Risacrifichiamo il topo da Soma Per la capra nera E risacrifichiamo la capra nera Per il lupo In modo tale Da fare un paio di danni extra Molto ma molto amichevoli Però Ah vabbè Va bene così Va bene così Non devo avere 8 miliardi di denti L'importante è avere La giusta quantità Al mio occhio Al mio occhio Per riuscire a trionfare Senza troppi problemi Ehm Lasciami accendere di nuovo Le tue candele Scusi C'avrebbe un occhio di riserva Buon uomo Sono tutto sminchiato Forse Una di queste potrebbe allettarti Guardi Se c'è un dio delle mantidi Mi farebbe molto piacere Quel sudicio maiale selvatico Diventa furibondo Quando qualcuno suona le sue campane Dio delle mantidi Ma sei un pezzente Ma non ci serve Non ci serve Abbiamo già il telone Il dio delle mantidi Invece Bravo Bravo Carder Adesso mi piace che c'è anche il suo commentary Beh Che tu ci creda o no Non sei il primo a perdere un occhio qui Non è poi così divertente Se sei mezzo cieco Magari Vorresti rimpiazzarlo In effetti Non mi dispiace Oh Quest'occhio non mi dispiace proprio per niente Anche quest'altro occhio è speciale Praticamente ti fa vedere le capre in maniera Le capre nere Con gli occhioni tutti dolci dolci Ok Ora è molto meglio Trova la salvezza in un orologio AQQ Piccolo dettaglio Va meglio In ogni caso la scelta è definitiva Adesso possiamo vedere cose che prima non potevamo vedere Ok avanziamo verso la prossima mappa Ripulita la polvere dai tuoi pantaloni Hai ripreso il cammino Yey Oh sì Beh certo Ho capito Vediamo un po' Codace di bello L'acqua Tiepida Ha inzuppato i tuoi stivali Le mosche hanno preso a ronzarti tutto attorno Sei entrato Nelle paludi Allora 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 Dove andiamo di bello Perché qua Non mi serve E perderei un falò Però c'è un falò anche da queste parti E i micologi non mi servono Perché non abbiamo due carte uguali Quindi sarebbe un viaggio veramente a vuoto Ok Scusate Quest'occhio mi sta veramente infastidendo Che voi non ci avete idea Allora Ora me lo fate risolvere questo stupido enigma Erano le 4 25 E 5 Oh adesso ti apri Adesso ti apri Salve Lupo rachitico Ehi Prendi il rullino Prima che lo veda Eccolo qua Adesso Cosa stai facendo lì Girati e guardami Oppala Che combini laggiù Niente niente Abbiamo il rullino che ci serve per vincere la partita Ribadisco Così facendo Ho scoperto meccaniche del gioco Come la carta della vittoria Che prima non conoscevo Vedete che c'è scritto anche uno Vabbè quello delle 11 l'abbiamo già risolto Non so se è una casualità che sembri un uno o altro C'erano altre cose che si vedevano in giro Mi sembra di no Non per adesso quantomeno C'erano forse scritte all'interno del monoletto Bella domanda Oh figlioli Abbiamo letteralmente recuperato Una partita persa in partenza Nonostante tutto E abbiamo il lupo rachitico Che è il terzo personaggio che ci mancava È una versione più debole Essendo rachitico Del lupo standard Ma mi pare che richieda un singolo sacrificio O sono scemo io Sì Un singolo goccio di sangue Oh Molto ma molto bene Potrebbe essere l'occasione giusta Per dare l'attacco da dio delle mantidi Proprio a lui Visto che Oddio O lo diamo a ermellino Che ci avrebbe tre di vita C'ho i big dubbi esistenziali Di certo non posso darlo al telone Perché sì Vabbè lasciamo stare che è meglio Allora per adesso Vediamo di recuperare una nuova carta Sperando di essere popo Una cifra Fortunati No 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 Niente tentacoli I vermi saprofagi Prima mi hanno semplificato Anzi Nella run precedente Ci hanno semplificato un sacco la vita Avevamo dato il potere al lupo E speravamo di darlo a Uraiuli Così da riuscire a spawnarlo Letteralmente in automatico Non lo escluderei Però sì Sempre l'immortalità Data a una delle nostre carte È un bel vantaggio Figlioli È un gran bel vantaggio Anche perché allo stato attuale Ho dovuto rendere la capra immortale Come ben sappiamo Quindi sì Recuperami Un ulteriore scarafaggio Che fa sempre comodo Ok Dove andiamo Dove andiamo È che non mi piace l'idea Di prendere questa tipologia di carte E qui posso comunque cambiare il percorso E niente Figlioli Si salta il falò purtroppo Ma È pieno Però Che fa Un'altra carta Un altro topo da somma Un topo da somma Sempre utile Ormai li colleziono Porca miseria A sto punto ti viene quasi voglia Di andare dai Micologi Perché sarebbe una carta Da 4 e 4 E si può dargli l'attacco triplo In teoria del dio del mantidi Eeeh Certo però Ti richiede Due spargimenti di sangue Ma ricordiamoci Che abbiamo pur sempre La capra nera Ed il telone Che hanno il No le vite multiple Scusate Il degno sacrificio Potrebbe essere una Una tattica molto Ma molto interessante Però Per darei il falò Allora per adesso Vediamo di affrontare La prossima battaglia E poi valutiamo Casomai come procedere Ribadisco In questo gioco Non ci sono tattiche Che sono universalmente valide Ehi devo ringraziarti Com'è stato? Beh è stato Piuttosto Piuttosto brutto Sono intrappolato In un corpo di armellino In un pezzo di carta Beh si Lo vedo Lo vedo E ovviamente Ho preparato un modo Per resettare Ancora una volta Vabbè dai Senti Continua Il nostro amico giocatore Qui insomma Possiede già la chiave Ok Grazie Questa è l'ultima volta Che devo affrontare l'esci Se tutto va come deve andare Allora Se giocato Alucertola E fa uno di danno Ok E poi ci lascia la coda Vabbè uno di danno Lo possiamo sopportare Non è un problema A questo punto Mettiamo il lupo rachitico Perfetto Eccoci qui Ah Sì Il resto delle carte Vediamo di tenerle da parte In caso di necessità Oh una vipera Sei un pezzo di erba Sei un gigantesco pezzo di erba Ti prego dammi il telone La capra nera Buono direi Credo Allora Al prossimo turno La vipera Ci farà fuori il lupo rachitico E qui invece abbiamo Una puzzola Allora Dobbiamo Riadattare effettivamente Le nostre tattiche E signore mi dispiace Tradimento E mi dispiace Gli avevo detto La devo sacrificare In modo tale Shogara Da Che facciamo fuori La lucertola Così Poi si sposta E la vipera Non arriva Non mi ricordo Oppure gli facciamo direttamente Tre di danno Perché quell'uno di danno extra Non è che mi cambi la vita Aggiunto al danno della vipera Perfetto E dopo Casomai la respawniamo All'occorrenza Perfetto Ok Non esageriamo Oh mio dio Serpenta sonale In avvicinamento rapido Oh datemi il telone Sì Finalmente Il telone Ti ringrazio Allora il telone Fa tre di danno Ed è un degno sacrificio Però sì Allo stato attuale Ha le stesse abilità del lupo Che sta per aggiudicarsi Lo scontro Nonostante tutto Quindi È inutile È inutile Non riesco a fare danni extra Ma almeno ci aggiudichiamo La battaglia Ah C'ho una carenza di denti In star run Che è qualcosa di assurdo Allora Potremmo andare dai micologi Come ho detto Il guadagno Col topo da somma È nettamente maggiore Devo solo sperare Che la carta che ci danno qua Sia decente Della serie Quando mai Nella vita Allora Abbiamo il corvo Lo schifo abbiamo Dammi un dio delle mantidi La mantide Anche una mantide standard Mi va benissimo In effetti Attacco doppio Invece che attacco triplo Ok E finalmente Si va Funghi figlioli Oh C'erano i micologi In che la sopra L'ho visto adesso Ti sei ritrovato In mezzo a un boschetto Di grossi funghi Dall'odore acre Hai strizzato gli occhi Per vedere una figura Attraverso una spessa Nube di spore Ah Non mi ricordo Che voce vi avevo dato Signori Noi siamo i micologi Cos'è Sì sì E stiamo condegendo I nostri esperimenti L'andana dada Non siamo i benvenuti Altrove Faremo esperimenti Sul tuo gregge Sì Ci serviranno Due creature Del desetipo Una per ognuno di noi E beh guardi Non è che c'è troppa scelta Effettivamente Abbiamo solo Topo da somma 1 E topo da somma 2 Perfetto divertitevi La situazione Potrebbe farsi brutta Mi stanno per tagliare La topa Ma vabbè dettagli Guarda altrove Ah Che brutti suoni Le mie povere carte Wow Ora topo da somma È una carta di tutto Rispetto a topo da somma Adesso è nello La carta Yey Grazie caro Perfetto Allora dove andiamo Di bello Perché a questo punto Non ha senso andare Da questa parte Direi di andare Da quest'altra Mi sa che stanno Per darmi un altro Topo da somma Da somma Vabbè Vabbè Vediamo di partecipare Al prossimo scontro Intanto Come ho detto La situazione Si sta un po' Risollevando Dai così scogliatoli Volanti Ehi Hai preso il rullino È vero Il mio piano Si avvicina Al momento della verità Ma prima Devi sconfiggerlo Ok Sì Beh Sono carte buone Stati zitto Coso Allora abbiamo Oh Il verme ad anello In passato ci abbiamo Velenato I maledetti cannibali Però non fa danni Allo stato attuale Però le formiche Eh Schifo Le formiche invece Saranno un problema Sono Due formiche operaie Quindi faranno Due e due Ecco le dobbiamo eliminare Quanto prima Allora Dobbiamo fare così Per adesso Mi metti lo scogliattolo Aspetta un secondo E lo sacrifichiamo Per la capra nera No non ha molto senso Ci basterebbe mettere Il lupo rachitico Per fare due di danno E che poi la formica operaia Ci Ci ammazza Devo sperare di recuperare Una carta potente qua sotto O siamo super mega Pregati Vabbè Non posso fare altrimenti Allo stato attuale ragazzi Sei sicuro? No Ho modetto le mani legate Ma che vada recupero Uno scogliattolo in bottiglia E vi sarò tutti felici e contenti Tanto anche loro Ci faranno due di danno Eh vabbè Che è un'armata Orcaccia la miseriaccia Eh sì Però io adesso che mi gioco Merda Il topo da somma È arrivato nel momento Più sbagliato possibile Stiamo per subire Quattro di danno E poi arriva il pipistrello Orcaccia la miseriaccia Aspetta Il topo da somma Mi fa recuperare un oggetto Vai discogliattolo Ciao caro Allora vediamo di metterti lì Sacrifichiamolo per la capra nera Ok E spawniamo Topo da somma Ma dove lo spawniamo? Perché possiamo metterlo qui Per eliminare un bel numerino di carte Oppure lo mettiamo qua Per cercare di fare quattro di danno E poi eliminiamo anche il pipistrello Eh Non lo so Aspetta Se attacchiamo da questa parte Tuttavia La formica operaia Di quest'altro lato Potrà fare meno danni E noi possiamo far fuori Sia questa che questa Come siamo messi a Vorrei vedere il coso Eh la bilancia Devo Ti mettilo qua Non ricordare la bilancia Ok siamo a metà per adesso E al prossimo turno Vediamo di spawnare anche Il caro Un vecchio armellino Perfetto Vai caro E anche loro ci faranno Uh sei di danno Potente potente Ok ok Era un danno calcolato Diciamo così Allora armellino Tu fai purtroppo solo uno di danno Tu eliminerai questi due Ok E io devo cercare di fermare Questa formica operaia Perché l'altra cialape dietro Ah ma è arrivato il telone Quando è arrivato il telone Non Era qua fin dall'inizio Oh no Fatemi capire bene Non ho cliccato per Per prendere lo scoiattolo Vero? Non ho preso lo scoiattolo Ho erroneamente preso il telone Ma porca di que Quanto mi girano le palle Quando faccio questi errori Niente devo usarmi un oggetto Perché un cretino Ha fatto un grave errore Salterò il mio prossimo turno Sì lo so Lo so Lo so Beh sono obbligato a passare il turno È proprio un oggetto sprecato Perché ho sbogliato più il cuore Non ne parliamo più gente Non ne parliamo Non ne parliamo più Cioè in verità stiamo anche per vincere Ma Dello serie chi se ne frega Senti fammi fuori Questa gentaglia brutta e cattiva qui E tanto che ci siamo Così per simpatia Mettimi pure Ermellino A posto Vai caro Ok abbiamo fatto un bel po' di danni Uh Ma non abbiamo vinto Ermellino ce la puoi fare Resisti caro Uh La mantide Vabbè la spawniamo così Giusto perché passava da queste parti Così magari riusciamo a fare un danno extra Ok meglio che nulla La partita ha preso una piega inaspettata Ma con topo da somma Casomai Recuperiamo altri oggetti Ragazzi Mi avete criticato che non uso mai gli oggetti Stavolta ho fatto una minchiata Quindi Alla fine li ho utilizzati Ma ciancio alle bande Dobbiamo scegliere una nuova carta Ragazzi portatemi un po' di culo Un po' più di cu No Ho sperato Lo so per una fatta di secondo La gazza Bene 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 L'avida gazza È in grado di afferrare qualsiasi carta dal tuo mazzo Ok da sola non mi entusiasma Perché richiede due sacrifici Ma come sapete molto bene Ha accumulatore Quindi sì Puoi esaminare il tuo mazzo Dopo aver giocato questa carta E scegliere una carta Ad aggiungerla a tua mano Allora questo è un potere Che assolutamente Dobbiamo trasmettere A chiunque Non lo so nemmeno io A ermellino Qualunque carta che richieda Un singolo sacrificio Solo che non ho trovato altari Per i sacrifici Aio Eccone qua Ce n'è uno da questa parte Direi anche alleluia Quanti oggetti abbiamo Ne abbiamo solo due Quindi stanno per darci Un oggetto extra Speriamo che sia qualcosa di utile Oh no no Non puoi usarla Oh sì sì Che posso usarla Aspetta ma c'era anche nel gioco originale Davvero? Non me lo ricordavo? Tu vieni con me subito adesso Now Non pensavo ci fossi già Oh bene 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 Allora vediamo di vincere un altro scontro E poi andiamo a fare le Le fusioni Da quella parte Ma poi è bella grandina in effetti Mi piace mi piace Dobbiamo Ancora raggiungere il La prossima boss battle Allora E che carta di merda però Allora abbiamo un ceppo Che blocca per un po' Gli attacchi della ranatoro E un ceppo che invece Nemico che bloccherà i nostri attacchi Dobbiamo vedere di eliminare Quanto prima la sua ranatoro Lo possiamo tipo One shotare Allora mettimi lo scogliattolo Oddio Potremmo anche andare di mantide Messa qui Che fa uno di danno Ma I nostri ragazzuoli Sarebbero virtualmente Al sicuro Perché il nemico Non la può attaccare Ma certo E poi casomai Spawniamo anche Il lupo rachitico Comunque le fa due di danno La ranatoro ci rifarrà Uno di danno Stanno arrivando intanto I coyoti dall'alto Dammi uno di questi Perfetto Lupo rachitico Non hai un bel aspetto Non te lo voglio dire Però insomma ci siamo capiti Ottimo Mettimelo lì E spawniamo Come dicevamo Lupo rachitico Beh Usami con saggezza Fidati Ok Perfetto Porca la miseria Quel coyote rompe un po' I maroni Lo possiamo buttare via Dunque hai trovato Il lupo rachitico Beh Ho già visto Questa situazione Svolgersi Abbastanza volte Da sapere Che sicuramente C'è un pianinato Quindi Fai in fretta Sì signora Non si preoccupi Allora Lei fa uno di danno Più che sufficiente Per far fuori il coyote E per ridurre a uno I suoi stessi danni Ehm Non ci basta Per vincere la partita Molto probabilmente Vediamo un po' Ah sì Invece sì Invece sì A posto Non abbiamo neanche dovuto usare Le nostre carte più citose Ah Il pescatore è dietro l'angolo Ma quanta gioia che provo Quale tattica possiamo utilizzare Figlioli Bella domanda Bella domanda Per adesso vediamo Di recuperare Una ulteriore carta Quali creature Mi fate scegliere Figlioli Insetti Rettili O lupi Insetti Natus scarafaggi C'ho una collezione Di scarafaggi Che Madonna E anche nella vita vera Uno qui Uno qua E uno l'abbiamo utilizzato Prima per la capra nera Non vorrei dire una minchiata Ok E' giunto il momento Dei sacrifici Ma chi Sacrificizziamo Direi che la gazza È la scelta migliore Vediamo un po' Che possiamo dare Il po' Oh Quanti sigilli Potremmo dare al telone Quattro sigilli Vi rendete conto Però ricordiamoci Che il telone Non è immortale Per adesso Lo potremmo rendere In futuro immortale O dargli L'attacco triplo Diventerebbe una carta Bella potente Anche ben più potente Del lupo In effetti Tornami indietro Tornami indietro Sciocara Allora Sacrificami Dio delle mantidi Vediamo un po' Se si può fare Oh Sì figlioli Si può fare Popo un sacco E poi casomai Diamo anche Agli altri ragazzuoli Il potere della gazza Se necessario Potenziamo ai faloi Il telone Ma Già così farà nove di danno Che Voglio dire Ok c'ha due di vita Quello è un problema Mi ricordo che c'è sempre La mantide Con l'attacco doppio Che potremmo dare a Eventualmente il topo Oddio il topo da somma Però richiede il doppio Sacrificio di sangue E' già più difficile Potremmo prima utilizzare Il telone E poi il topo da somma Che comunque ci dà Oggetti utili Ok il telone deve essere La carta che ci farà Vincere Praticamente la maggior parte Degli scontri Ciccio Sei ancora una volta La carta suprema Non so cosa dirti Sono fiero di te Qualcuno vuole affrontare Un pescatore E gli posso riportare L'amo E non mi aspettavo Che ci fossi Tu ma c'era nel gioco Originale nostro O l'hanno giunto Solo dopo Io me lo ricordavo Solo nella Casey Ma potrei anche Ricordarmi male Il nostro amichevole Blob pittore E tutte cose Eeeh Ora mi sono ricordato Tu sei uno degli assistenti Del mago Di Magnificus Ok 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 Lo conosceremo meglio Nel secondo atto Terzo atto Ragazzi E' passato talmente Tanto tempo E sto gioco Ha talmente tanta lore Che nemmeno io me la ricordo Allora in modo figlioli Direi che per questo episodio Ci possiamo fermare qua E' stata veramente Una run Inaspettata E nella prossima Potremo effettivamente Riuscire a completare Il primo atto Una volta per tutte Non dovrebbe esserci Altro che dobbiamo Per forza fare Nei commenti ovviamente Fatemi sapere cosa ne pensate Lasciate un bel mi piace Altrimenti vi trasformo In un blob E noi ci vedremo In un prossimo video Ciao 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 c'è Ciao c'è Ciao c'è